Fior de Gaggia, quando canto io canto con allegria A 40 anni dalla sua scomparsa, la città di Napoli si appresta a ricordare Anna Magnani, una delle più grandi interpreti femminili della storia del cinema italiano. E lo fa con l'evento musicale Nannarella in programma l'8 novembre presso il Museo Diocesano di Napoli, e organizzato dalla APS CISL Turismo Sociale, in collaborazione con l'associazione Maria Malibran. Attrice simbolo del cinema italiano, Anna Magnani è diventata famosa grazie alle sue celebri interpretazioni in film come Roma Città Aperta, Bellissima, Mamma Rosa e La Rosa Tatuata. Quest'ultimo le valse anche un Oscar ad Hollywood come migliore attrice protagonista, come spiega Valerio Caprara, presidente della Campania Film Commission. Anna Magnani è stata forse la nostra attrice più grande. Non solo perché ha vinto il primo Oscar in assoluto a un'attrice italiana, con La Rosa Tatuata nel 1956, ma perché è stata un personaggio completo e complesso, che ha sfidato anche Hollywood, che ha immesso nella storia del cinema italiano, riscattato dal neorealismo nel dopoguerra, una dose inimitabile di bravura, talento, applicazione e anche istintività. Lo spettacolo, organizzato in concomitanza del primo anno della APS CISL Turismo Sociale e firmato dalla regia di Gigi Dallaio, vede la partecipazione del mezzo soprano Raffaella Ambrosino, che vestirà i panni della celebre attrice. Nello spettacolo ci sono momenti molto forti, dove c'è un dialogo tra il cinema, Roma città aperta, insieme con il suo mitico frou-frou del Tabarenne, poi abbiamo le sue meravigliose canzoni romane, tutte rivisitate. La vocalità è un misto tra una vocalità spinta, una vocalità da camera, una vocalità popolare.